Sì, sì, sicuro, vedete, è giusto, un po' tempo ho fatto, a fine quello tempo si è abballato un po' con il mister, abbiamo fatto, adesso ha posto un po' di idee, poi secondo tempo è andato decisamente meglio, abbiamo trovato l'assist per Nunzio, che comunque è una giocata che magari ti si troppo un po' anche, sicuramente, quando le cose non male, magari una fiammata, potete rimettere un po' le idee, ma c'ha, poi abbiamo fatto comunque tutti, un secondo tempo, penso, eccellente, che è forte, magari sofferto, magari anche tanto in ultimi minuti, un po' di durare, diciamo, finale che ci potrà, si fa bene, non male che si nutti in una mano, l'abbiamo reso bene dietro, penso che sia questa la strada giusta da apertopere, è una cosa importante perché, diciamo, ti legava un po' al discorso di stare con la storia davanti o la storia dietro, diciamo, il blocco avanzato da passività, penso che ci siamo attazzati, e già da queste, diciamo, prime giornate, è importante che mi aveva, una vittoria del gruppo, questo dovrebbe far piacere soprattutto a te che sei un veterano, sei il capitano della squadra, sì, diciamo che sono già anche parlati prima della partita, perché è l'ora di essere un gruppo che, chiunque entra in campo ogni domenica, è fondamentale, siamo tutti utili, sono indispensabili, avranno fuori giocatori importanti come del trame, come Valare, come da noi, questa settimana, se voglio dire, ci voglio essere rossi da, da molto seria, non solo per il risultato, ma soprattutto per i giocatori che abbiamo operato per l'infortunio, abbiamo dimostrato soprattutto di essere un gruppo compatto e che vanno tutti nella stessa direzione, chi gioca di più, chi gioca di meno, oggi c'è gente che entra da, non mi sono 10 minuti, ma ha dato una porta importante alla squadra, penso che questo, se vogliamo fare un campionato importante, sia fondamentale, perché comunque sono tre giornate, sono tantissime, cioè ci bisogna una mente di 22 giocatori, è un campionato lunghissimo.